Alzati e seguimi. Sono le due parole con cui l'Onnipotente ha svelato a San Nicolò Politi, patrono di Adrano, la via attraverso l'amore attraverso cui seguire l'esempio di Gesù. Ma sono anche le parole che danno il titolo alla drammaturgia che personalmente ho curato, attingendo a vari materiali, dalle biblioteche pontifice salesiane e gregoriana e dalla biblioteca nazionale di Castro Pretorio. Alla fine è venuto fuori un testo liberamente ispirato alla vita di San Nicolò Politi, patrono di Adrano, un testo che è diventato il supporto per una videoinstallazione che avverrà sul Palazzo Bianchi il 3 di agosto. Una videoinstallazione dal carattere assolutamente innovativo attraverso una nuova tecnica, l'AIA, l'Artificial Intelligence Art, una tecnica nuova che coniuga il reperimento delle immagini al trattamento pittorico delle medesime. Sarà un esperimento assolutamente nuovo, non fatto, siamo particolarmente felici e devo dividere oneri ed onori con due adreniti che tanto hanno dato a questa esperienza, Gaetano Lamela che è stato il direttore tecnico e Pietro Coco che si è occupato proprio del reperimento e della costruzione delle immagini. Le musiche sono dell'immancabile nello toscano. Tutto questo avverrà giorno 3 e sarà in testa alla volata dell'angelo che chiuderà la tradizionale festa in onore di San Nicolò Politi. Grazie.